Grazie a tutti Grazie a tutti Un po' di voce Ok Così va bene Così va bene Guarda al centro Grazie a tutti Ok Bravissimo Guarda avanti Guarda avanti Guarda sul centro Guarda al centro Va bene così Guarda al centro Bravissimo Bravissimo guarda dentro ok mi raccomando squadra bene stai seduto indietro piano piano aspetta vai in fondo vai vai ok voce gambe ok un po' di voce gambe guarda in fondo aspetta vai ancora vai vai ok grazie 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 Il punteggio vero Bruno Simone sulla Bismarck Calza testiera 706, 68 e mezzo.